Senza Bavaglio, una nuova trasmissione che va in onda su Viva la Puglia Channel e su Viva l'Italia Channel. Uno spazio libero, autoprodotto, autogestito ed autofidanziato dal sottoscritto, per essere liberi. Vedete, io su tutto posso transigere, veramente non transigo su pochissime cose, su quelle che vengono fatte in buona fede, ma non certo su quelle fatte in mala fede, che hanno come unico scopo quello di ammantare la realtà e di far morire i cittadini di Taranto e non solo. Ma veniamo al nocciolo, alla questione nodale. Nella prima puntata di Senza Bavaglio abbiamo parlato di un video che ora sottoporremo di nuovo alla vostra attenzione, delle emissioni, detto in parole povere, del fumo nero che si sprigiona nella produzione di cocco, quindi nell'ambito dell'attività della cocheria. In uno studio, relativo alla interazione, relativo al rapporto tra sostanze inquinanti, mi riferisco appunto allo studio delle sostanze inquinanti, le diossine, il PCB e gli IPA, si è studiato appunto il rapporto tra questi inquinanti e la patologia delle endometriosi. Come già accennato nella scorsa puntata, spunta in alcune analisi effettuate in un campione di donne viventi nell'area di Statte e di Taranto, un 120 donne circa, la presenza di naftalene o di naftalina nelle urine. E qui si apre una vexata a questio tra il dottor Conversano, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asla di Taranto e il noto ambientalista, il presidente di Pistlink, il professor Alessandro Marescotti. Grave è che l'ASL di Taranto abbia dichiarato che la naftalina, lo leggo testualmente, sarebbe una sostanza catalogata nella classe 3 IARC e che pertanto non è ancora definita tra i cancerogeni. Questo dice Conversano per conto dell'ASL. Marescotti, il professor Alessandro Marescotti, con dati alla mano, dice Caro Conversano, massimo rispetto per la tua persona, ma tu devi evidentemente aggiornarti. Per quale motivo? Perché è salito in classifica la naftalina purtroppo e ora compare, quanto a pericolosità, fra i possibili cancerogidi. Infatti ora il naftaline è nel gruppo 2B, possibile cancerogeno per gli uomini. E che l'ASL e che Conversano debbano informarsi e debbano aggiornarsi, basta e facilmente provato. Infatti nell'ultima monografia disponibile dello IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, a pagina 418, caro Conversano, vado a leggere. Naftaline is possibly carcinogenic to humans, group 2B. Significa letteralmente il naftaline è un possibile cancerogeno per gli umani e rientra appunto nel gruppo 2B, non nella classe 3, come erroreamente sostiene, ed è davvero strano il fatto, sostiene l'ASL. Ma andiamo avanti. Sono stati fatti degli studi nell'ambito delle sperimentazioni animali circa il carattere cancerogeno della naftalina. E qui, pensate, evidentemente i tarantini sono alla stessa stregua delle cavie, perché come si fanno gli esperimenti per quanto riguarda le cavie, gli animali, evidentemente i tarantini soggiacciono alla stessa sorte. Agli animali si somministra evidentemente la naftalina, ovviamente gli animali vengono costretti, vengono sottoposti, come dire, violentemente a queste emissioni. I tarantini altrettanto non volutamente vengono sottoposti alla naftalina nel momento in cui si produce il COC. Ricordiamo che la naftalina veniva usata come antitarme, cioè la naftalina faceva morire gli animali, le tarmi, e parallelamente la naftalina evidentemente fa morire gli uomini. E le donne, come si dice, come si vede dallo studio che è stato fatto, dalla presenza della naftalina nelle urine. Bene fa il professor Alessandro Marescotti quando chiede la chiusura delle cocherie, il fermo delle cocherie, in virtù di un importante principio giuridico che è appunto il principio della precauzione. Nel momento in cui infatti non è accertato il rapporto causa-effetto tra naftalina e presenza delle emissioni inquinanti, e presenza di naftalina nelle urine, però nel momento in cui c'è un dubbio abbastanza fondato, bene, il principio di precauzione vuole che a quel punto bisogna mettere le mani davanti e bisogna porre il fermo, chiudere le cocherie. Ma non c'è solo questa ragione per poter e conseguentemente dover chiudere le cocherie, perché, signori cari, c'è un'altra ragione, in quanto, come si evince chiaramente, i valori emissivi in cocheria sulle emissioni in fase di spegnimento continuano a superare i valori prescritti nell'AIA, come certificato dagli stessi report trimestrali effettuati dall'ILVA. E, ricordiamolo, anche in fase di spegnimento, oltre che di distillazione, viene prodotto il naftaline. Allora, signori cari, se si verificano all'interno, se i valori emissivi in cocheria, in fase di spegnimento superano quei valori, quelle soglie fissate, già questo superamento dei valori nella fase di spegnimento impongono la chiusura delle cocherie stesse. Detto in parole povere, se tu cocheria in fase di spegnimento, non devi oltrepassare quel valore e tu lo superi, e questo valore limite, soglia, è fissato dall'AIA e tu non lo rispetti, tu, cara cocheria, devi scomparire, devi essere chiusa, a prescindere dal discorso della naftalina. Questo è il grave aspetto, è il motivo più che sufficiente, banale, oserei dire, di semplicissima comprensione per il quale le cocherie vanno chiuse, va posto il fermo alle cocherie, senza se e senza ma. Si aggiunga poi che occorre uno studio molto, ma molto penetrante relativamente alla naftalina o naftalene, che dir si voglia, proprio perché la misurazione dello stesso è difficile, sfugge e quindi occorrono delle strumentazioni particolarmente approfondite e degli studi particolarmente mirati. Io penso che quella della proposta di Marescotti, l'idea di Marescotti sia non condivisibile, ma condivisibilissima, perché, ripeto, non entro nel merito dell'emissione della naftalina, ma già i valori che vengono superati nella fase di spegnimento della cocheria, lo ripeto, impongono la chiusura delle stesse. Evidentemente non lo vogliono capire. Signori magistrati, voi avete fatto tanto per Taranto, siete stati sempre dalla nostra parte, dalla parte del cittadino, ma io vi invito a verificare questo fatto, verificare questi dati e sarebbe vostro compito, vostro dovere intervenire per porre un freno, per non dire poi che altrettanto dovrebbe fare il sindaco, dovrebbe fare l'amministrazione comunale di Taranto. Lo dicono i numeri e lo diciamo noi, senza bavaglio. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!